Amici del Kai Socher, ben ritrovati questa sera. Siamo al campo della Formec Biffi, dove Le Club e Bar Statale 45 si sfidano nel big match della quinta giornata, nell'amatori league di calcio a 7, con entrambe le squadre che arrivano a questa sfida, a punteggio pieno. I padroni di casa di Le Club in maglia blu si schierano con Massimini, Fanaletti, Gallinari, Giannini, Gruppi, Podestà, Bianchi, Gatti, Scarabelli e Soressi. Risponde invece Bar Statale 45 in maglia nera con Montanari, Centi, Ciotola, Elmoardi, Galluzzo, Guglielmetti, Moretti, Pinotti e Rocca. La prima occasione del match è per gli ospiti con Pinotti che riceve scarica col sinistro, trova un gran gol sotto l'incrocio e Pinotti fa 1-0. I locali poi reagiscono subito con Gruppi che salta il portiere con un pallonetto, non ci arriva il difensore, e allora è pareggio, è 1-1 per i locali. Poco dopo però ancora gli ospiti in avanti con Rocca che entra nella metà campo offensiva, semina il panico, scarta il diretto avversario, calcia in porta col destro, sorprende il portiere sul primo palo e trova il gol del vantaggio. Con le immagini poi andiamo nel secondo tempo. I locali trovano il gol del pareggio con Fanaletti che disponda, serve Gruppi, stop, tocco morbido sotto a scavalcare il portiere. Grandissimo gol del numero 17 che trova la doppietta personale e rimette in parità il match. Poco dopo però Elmoardi parte velocissimo, arriva sulla trequartia avversaria, lascia partire un gran destro che si insacca all'angolino destro. Grandissimo gol del numero 7 che trova il gol del 3-2. Poco dopo poi ancora protagonista, questa volta con un assist su calcio d'angolo, la sponda ai percenti che stoppa il pallone, calcia ancora col destro molto bene, preciso all'angolino, stesso angolo, stesso risultato e Barstatale 45 va su 4-2. Poi i locali ancora in avanti con Fanaletti che viene atterrato in area di rigore, per l'arbitro non ci sono dubbi, è penalty. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 6 che parte, calcia in porta col destro, Montanari intuisce ma non arriva e allora si riapre il match ed è 3-4. L'ultima occasione ancora per i locali con una punizione respinta molto bene da Montanari e qui l'arbitro fischia la fine, termina il gara. Barstatale 45 si impone 4-3 sulle club e vola in testa alla classifica. E furtima E furtima Pris revis